del 60%. Unicredit e sindacati firmano l'accordo sugli esuberi, 2.000 neoassunti per 3.900 uscite. Dopo giorni di trattative e una maratona contrattuale durata tutta la notte, è stato firmato l'accordo tra Unicredit e i rappresentanti dei lavoratori. L'intesa prevede la volontarietà delle 3.900 uscite che saranno incentivate. In cambio la banca assumerà altre 1.300 persone, soddisfatte tutte le sigle sindacali a partire dalla FIRST CISL. Sentiamo il segretario generale Giulio Romani. Abbiamo trovato delle soluzioni per la riduzione degli organici assolutamente volontarie ma contemporaneamente ci sono 1.300 assunzioni e 600 stabilizzazioni di personale già dentro con contratti non stabili. Per la Fabi si tratta di un accordo di netta discontinuità con il passato. Più cauta la WILCA è un buon accordo, afferma il segretario generale Massimo Masi, ma ora la seconda banca del paese dovrà dimostrare con i fatti quale tipo di istituto di credito, quale business, quale modello vorrà adottare. Gelsomina Testa GR2